Porca puttana mi girano ancora le belle per quella finale persa lì. Sapevo che quel gobezzo di Conte aveva ancora il DNA Juventino e perdeva un'altra finale europea, guarda. E invece no, questo è primo grande passo verso la vittoria, verso trionfo di Intel. In che senso, presidente? Io e papà Suning abbiamo grande progetto, presentazione. Papà in Cina ha fondato grandi aziende, Giorgio Almani, Dolce Babana, Velsace. Non è tarocchetta, insomma. No, preso spunto da Miglioli per superarli. Quindi faremo lo stesso con calcio, con Juventus. Abbiamo già preso Malotta, Conte, Belso finale europea, fatto alabiale Conte in estate come loro, per poi volerplendere Allegli. La madonna, pure Allegli no però. Vabbè dai, copiamo tutto, basta che non andiamo in Serie B come loro. Non preoccuparti Massimo, per il futuro dopo Allegli, già contattato Salli e Pillo. E non finisce qui, pensato anche a un nuovo logo di squadra, Salemo Juventel. Presidente, così mi pare un po' troppo. Prima di prendere Allegli, però, dobbiamo fare ancora di mettele Conte. Perché papà Suning non vuole pagare altro allenatore, stiamo ancora pagando Spaletti. Sì beh, capisco tuo papà, ti girano le balle quando paghi un allenatore 5 milioni e sta a casa a far niente. Eh, Spaletti non è a casa a far niente. Qualcuno gradisce del tè? No, grazie Luciano, vai a aprire le polta che è arrivato Conte. Buongiorno, buongiorno. Ma che ci fa qua, Spaletti? E poi ti spiego, Antonio, ti spiego dopo. Vabbè, facciamo in fretta, me ne voglio andare. Non mi proteggete, poi ho visto che avete già contattato Allegri. Ah, non preoccupatevi, ho già fatto sparire tutti i miei schemi, i miei appunti che avevano nello spogliatoio. Così non me li fotto come ha fatto la Juve, quello. Voglio vedere cosa combina quello senza i miei schemi. Voglio vedere. Dove cazzo gli ha messi gli schemi, l'altro oltre li ha lasciati sotto gli armadietti. Dove cazzo sono? Dove cazzo sono? Va bene, Antonio, se tu vuoi questo, filma qui. Sì, sì, subito, subito, subito. Attento, Antonio. Anche io pensavo di potermene andare e di prendere i soldi senza fare niente, ma questi contratti sono scritti in cinese e non si capisce una sega. E ora sono costretto a fare il maggiordomo. A te ti faranno fare il lavapiatti. Non ti fidare. Oddio, questi mi vogliono fottere. Già ripensato, rimango. Limani? Come Limani? Fermi tutti, guardate la televisione. Clamuroso, Messi lascia il Barcellona a parte l'assalto per averlo. Forza cinese, chiama subito, come ho fatto io vent'anni fa per prendere Ronaldo, proprio con il Barcellona, no? Giusto Massimo, prosegue progetto Juventel. Lolo hanno preso CL7, noi prendiamo Messi. Lonto Messi? Hola? Dai forza, offrogli subito i soldi, centomila miliardi, dai. Sì, ma digli che parte dalla panchina, ne legge Erarchi e sta dietro Gandreva e Gagliardini. Non può stare solo in attacco, deve tornare in difesa. Nel 3-5-2 deve sacrificarsi per la squadra. Vi faccio sapere. Hola? Hola amigo, ti aspetto a City. Ti offriamo centomila miliardi, dai miliardi, dai miliardi, dai miliardi. E fan c***o al fair play finanziario. Leo, potremmo realizzare una coppia straordinaria e tu potrai giocare insieme all'altro giocatore più forte del mondo. Chi, Bernardeschi? Viene Parigi, abbiamo Mbappé, Neymar, Di Maria, Icardi, Messi, Superman, Batman, Spiderman, Hulk. Così magari vinciamo questa cazza da Champions. Ah, Leo, se vuoi, puoi avere onore di giocare con me e non ti faccio pagare niente. Rebic paga due milioni per giocare con me. C'ha la Noglu quattro milioni. Però se hai le palle prendi il numero nove di Milan. Vediamo se sei così forte. Trovati, trovati! Beppe, Beppe, ho trovato gli schemi come a Torino. Si rifà il ciclo, cinque scudette di fila. Mi spiace, Max, rimane. Ora vado che stiamo provando a prendere Messi. Nooo, avrei potuto mettere Messi terzino! Puttana, maia!